E' in corso un'importante rigenerazione delle infrastrutture stradali, insomma l'intera provincia di Taramo si sta rifacendo il look e non solo. Sì, è una vera e propria rigenerazione, tant'è che anche quest'anno procederemo all'asfalto per oltre 10 milioni di euro su tanti comuni della provincia, oltre 35 comuni saranno interessati da opere di ripavimentazione stradale, ma soprattutto, come già anticipato l'anno scorso, la grande novità è la manutenzione ordinaria. Proprio questa mattina stanno ultimando il corso di formazione i nuovi cantonieri, cioè gli operatori, che saranno dotati di appositi mezzi e mezzi d'opera che permetteranno sia lo sfalcio dell'erba, quest'anno avvenuto per la prima volta dopo 20 anni a tempo record, tant'è che abbiamo quasi ultimato lo sfalcio in tutte le strade, ma soprattutto proseguiranno l'attività con la pulizia delle cunette per evitare che l'acqua durante i temporali possa rovinare e danneggiare le sedi stradali. Grazie.